E' stato felicemente sperimentato un nuovissimo tipo di vettura filotrambiaria articolata, che compendia i due requisiti indispensabili dei trasporti urbani, cioè grande capacità e massima agibilità. Questa vettura è lunga 18 metri ed è snodata nella parte centrale, può quindi percorrere le stesse curve delle vetture a due assi. Ha una capacità di 150 posti, di cui 40 a sedere e 110 in piedi. Studio e costruzione del veicolo sono opera esclusivamente italiana. Grazie per la visione!